coordinatore dell'RSU del Comune. Ci siamo trovati qui oggi perché perdura una situazione di brutale incertezza su quello che è il nostro trattamento economico. Un mese e mezzo fa Renzi aveva detto che avrebbe nominato una delegazione trattante e si sarebbe aperto il confronto. In realtà la delegazione trattante non è ancora stata nominata, noi ci troviamo delle buste paga decurtate dove le voci economiche sono definite a titolo d'acconto ed è una situazione che non può continuare. Hanno fatto un contratto unilaterale, non sono stati in grado neanche di portarlo ai revisori dei conti e farlo approvare. C'è una determina che prevede un recupero economico che dicono è sospesa e in realtà è semplicemente in questo momento non applicata, ma ci pesa sulla testa come una spada di damocle. Noi vogliamo riaprire il confronto, vogliamo fare un contratto e vogliamo soprattutto, cosa che non ha fatto Renzi in quattro anni, difendere la nostra contrattazione. Questo è un po' in estrema situazione.